Come si sente dopo aver vinto una causa contro una persona debole e indifesa? Sto molto bene. Noi siamo i prediletti della giustizia! È un articolo interessante, no? Un padre di famiglia disoccupato la cui casa andrà all'asta contro un avvocato senza scrupoli che rappresenta lo scuole immobiliare. Qualcosa non va? No, va tutto bene. Il film Un caso d'amore, questa sera alle 21.20.